Un passo avanti c'è stato, se non altro rispetto all'impasse in cui ieri pomeriggio Sala d'Ercole sembrava ripiombata. Sull'articolo 7 del disegno di legge, dedicato cioè alle città metropolitane, il governo Crocetta aveva presentato una sua riscrittura, che però la conferenza dei capigruppo ha bollato come inammissibile, dunque di nuovo seduta sospesa e febbrile giro di incontri, finché il governatore non ha chiuso l'intesa con nuovo centrodestra e Movimento 5 Stelle. In aula e in serata è così passato l'emendamento che di fatto recupera le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, riportandole però al perimetro delle aree metropolitane previste dal decreto regionale del 95, il che permette da un lato di superare uno dei nodi cruciali del percorso del disegno di legge a Lars, dall'altro però rappresenta uno stravolgimento del concetto di città metropolitane, così come originariamente previsto nel progetto di riforma. I sindaci delle tre città metropolitane, ad esempio, non godranno di quei poteri speciali che il governo Crocetta aveva previsto e i comuni limitrofi manterranno i loro primi cittadini. Quanto ai perimetri saranno quelli disegnati dal decreto del 95, dunque vecchi di quasi 20 anni. L'area di Palermo, ad esempio, toccherà 27 comuni, da Termini Merese a Partinico, spingendosi nell'entroterra non oltre Belmonte Mezzagno, comuni che potranno scegliere se aderire o meno all'area metropolitana o al consorzio di comuni. Al di là della validità della norma, che rifacendosi ad un decreto del 95 ripropone una distribuzione territoriale che potrebbe non avere più riscontri progettuali e di programmazione, restano da approvare altri quattro articoli, ma restano le perplessità. Su una legge che non ha ancora affrontato la questione delle competenze, dovranno essere disciplinate da un'altra legge.